e ben ritrovati in questo mio nuovissimo video sul mio canale scusate per il tempo di inattività prolungato ragazzi ma siamo qui in una nuova serie la epic vanilla la riprenderemo tranquilli ma non ora e siamo nel mio realm su minecraft allora diciamo che ci sono molte costruzioni fin troppe quindi se volete il tour dobbiamo raggiungere un bel po di like quindi vedrò se farvi il tour perché è veramente gigante questo mondo questo realm ma comunque vi spiego cosa sta succedendo ora allora questo mondo è iniziato come una normalissima vanilla poi si è tramutato appunto in una vanilla con una storia cioè le entità si sono aggiunte a questo mondo tipo entity nulle e vi spiego anche perché ho tutti questi effetti ora tranquilli allora ci tengo a dire che io ora sono il re maledetto e come vi ho già detto nell'altra serie c'è una epic vanilla ho preso assolutamente spunte di ispirazione totalmente dalla big vanilla lo dico qua lo affermo perché è la mia serie per Rita la adoro la big vanilla e quindi io come vedete sono il re maledetto ci sono altre tre persone in questa serie che pian piano vedrete nei video e si sta avvicinando la guerra tra re allora quindi abbiamo sicuramente avete già visto davide nella epic vanilla che è il re quindi il re normale è il re normale che vive in un castello che dopo vi faccio vedere insieme a me quindi siamo in team insieme contro aron che avete già appunto visto anche lui nella epic vanilla che è il re degli acci il re del ghiaccio e tommy che è un nuovo partecipante che è il re del land signori che vedrete appunto nei prossimi episodi e quindi abbiamo aron e tommy insieme nell'altra squadra ci sarà una guerra ma non vi spoilerò nulla comunque ecco perché ho tutti questi effetti e questi poteri perché appunto sono il re come vedete ho l'antica corona maledetta e questi purtroppo li dovrò lasciare al re dei ghiacci perché dobbiamo essere leali comunque in guerra giusto ragazzuoli beh direi proprio di sì comunque volevo iniziare a portare anche dei video delle bedwars se non vi va male e se non mi dispiace fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa vorreste vedere sul canale e niente questa era appunto l'introduzione della serie e niente ditemi appunto se volete il tour che cosa volete vedere prossimamente sul canale e aspettatevi molto da questa serie signori perché è davvero una bomba fidatevi di me ma comunque ovviamente state già vedendo dei piccoli luoghi qui ecco sì delle piccole casette disperse in mezzo a nulla e beh vi farò appunto sapere di più il primo episodio probabilmente arriverà domani ragazzi se non stasera e niente noi ci vediamo al prossimo video qua da loro è tutto e bella